Il secondo semestre sui mercati è iniziato come il primo, all'insegna delle vendite. Cosa fare sui mercati? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Terza carta, petrolio. Ne abbiamo parlato anche prima, quello che posso solamente aggiungere anche in questo caso siamo ancora all'inizio di una fase di correzione, poi ovviamente correzione se si fa riferimento al megatrend. Siamo in una fase, nella credo terza onda ribassista, secondo me si potrebbe ancora scendere. Prima abbiamo citato anche la soglia dei 100 dollari, quindi soglia psicologica. Violata questa soglia potremmo anche, secondo me, raggiungere il target a 95 dollari. 95-94 dollari, in passato abbiamo visto come è stato l'inizio di un trend realzista, secondo me, quindi dovremmo aspettare, qualora insomma gli appassionati del petrolio volessero tornare a comprare il greggio, insomma consiglierei di attendere questi livelli qui, anche la quota dei 93 dollari. Però tornando insomma alla nostra strategia, dicevo ribassista, con un ingresso a 106 dollari che in realtà è stato già superato abbondantemente, però da qui non escludo un pullback da questi livelli, visto che in giornata sembra essere comunque a sconto. Quindi qualora ci dovesse essere un pullback, ipotizzo un ingresso a 106 dollari che in realtà andrebbe anche a testare il supporto dinamico nato il 22 di giugno, e in questo caso andare a sfruttare un livello di uscita, quindi uno stop loss a 109 dollari e un target, in questo caso andiamo a recuperare lo stesso target a 100 dollari. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 ad House of Trading. Grazie a tutti.